good morning juventus ricorderete che qualche anno fa andava di moda vendere dei prodotti come fossero un iphone computer o insomma beni di questo livello costosi sotto costo la gente ci cascava e quando arrivava il pacco c'era un mattone dentro c'era insomma non c'era l'oggetto che ovviamente uno desiderava fu così appunto che fu creata anche la sicurezza d'acquisto con paypal non so se siete pratici che praticamente ti rimborsava nel caso in cui il kit aveva venduto infatti si diceva di fidati di altri tipi di pagamenti che non siano paypal perché diventa pericoloso ecco io ho fatto questo esempio perché in qualche maniera noi della juventus ci siamo ritrovati un mattone al posto di un campione fa anche rima ebbene sì perché quando noi abbiamo preso pogba quest'estate sapevamo che veniva da un infortunio però evidentemente al j medical che non credo che siano ciechi quando l'hanno visitato era abil arruolato tant'è che è partito per la torne americana ed è stato messo subito in campo d'allegri fatto sta che dopo quell'apparizione fugace in quella partita contro il civas pogba non si è più visto ha fatto 35 minuti l'altro giorno quando è rientrato che sembrava che fosse tutto sistemato ma pronti via prima la punizione per essere arrivati in ritardo anche qui ci sarebbe da ridire sul suo comportamento i suoi attesamenti addirittura ieri ha rifiutato gli autografi perché ha detto che con la testa non è lucido insomma secondo me con quello che guadagni e l'amore che hanno i tifosi juventini per te di cui io non faccio parte ma ci sono molti che lo amano mi sembra al minimo che tu ti fermi per fare gli autografi perché mi sembra che ti sei leggerissimamente montato la testa ma la cosa grave è che questo qui ogni volta che si muove che cammina a parte quando va a sciare che non gli succede nulla quando cammina si fa male lesione muscolare di basso grado in allenamento ok ma secondo voi può la juventus dare tutti questi soldi a un giocatore che praticamente non esiste perché molti diranno va bene ma max tanto sono le assicurazioni che pagano ma è un ragionamento è un ragionamento di lana caprina questo cioè cosa c'entra l'assicurazione l'assicurazione io non sto parlando che dai 8 milioni e la juventus bene o male non li spende perché li paga l'assicurazione ma noi stiamo noi teniamo uno slot occupato per un giocatore che di fatto non è un giocatore quando magari quest'estate anziché prendere pogba potevamo andare a prendere che ne so frattesi no di cui non a caso visto che i giovani nella juventus si stanno integrando la grande no barancea amiretti sole hilling fagioli gatti no poi ci sarà anche barbieri che secondo me ora visto e ildiz che dicono che sia un grande giocatore cioè questa nuova generazione juventina di virgulti di giovani virgulti sta crescendo bene e quindi secondo me visto che abbiamo avuto la fortuna di avere un raviò rinato abbiamo un fagioli che sta giocando da veterano sembra sembra il primo marchigio ve lo ricorderete io sostengo che fagioli diventerà più forte di marchesio con tutto che a me marchesio piaceva sia chiaro non far intendetemi per cui voglio dire pogba pogba ma ve lo chiedo a voi stavolta veramente faccio un video dove io faccio le domande a voi perché in genere nei commenti spesso mi fate domande voi a me ve le faccio io a voi le domande ma pogba alla juve ma che cosa mi rappresenta che cosa mi rappresenta cioè che garanzie ho io juventino e voi juventini come me che questo farà partite nella juventus e non apparizioni fugaci ragazzi io l'anno scorso ho preso in giro paulino di bala per tutto il campionato so pronominandolo fatima perché faceva una partita poi ne saltava tre faceva due partite poi ne saltava tre faceva tre partite poi ne saltava quattro no e di fatto io dicevo che era come la madonna di fatima che appariva ogni tanto in campo poi scompariva e questo come devo chiamarlo come devo chiamarlo questo cioè meggiugori l'urde non lo so santiago di compostela come devo chiamare come devo chiamare san gennaro come devo chiamare cioè questo qui cioè noi in realtà pogba è solo sulle figurine panini ne parlano i giornali le comunicazioni che vengono date di pogba sono o squalifiche multe perché arriva in ritardo o che è in vacanza che si diverte o che si è fatto male o che aveva una contrattura o che aveva dei problemi mentali o ragazzi stiamo parlando di un personaggio che onestamente è imbarazzante se lo si deve giudicare a livello calcistico perché poi a me la vita privata sapete no che io non mi permetterai mai di entrare nella vita privata degli altri se non per fare magari delle battute simpatiche e non sicuramente cattive ma pogba ragazzi cioè l'abbiamo preso per dare una svolta al centrocampo che sono anni che è imbarazzante fortuna vuole che come si dice no ma il comune mezzo gaudio o nella sfortuna vengono fuori le cose buone abbiamo trovato dei giovani di valore perché francamente aver visto ieri sera in campo contemporaneamente sole e miretti l'altro ieri sera scusate sole e miretti e fagioli è tanta roba è tanta roba perché e barincea anche cioè tanta roba che questi questi se prendono confidenza col pallone non hanno paura neanche dell'inter non hanno paura neanche del Madrid secondo me bisogna anche un po' sfaltare il falso mito che i giovani non sono pronti ma ragazzi ma di cosa stiamo parlando in inghilterra mettono in campo dei ragazzini l'altra sera ho visto dei giocatori ho visto Chelsea Borussia Dortmund hanno messo in campo dei giocatori uno di 17 anni l'altro di 18 cioè hanno giocato come dei veterani ma ragazzi ma la palla è sferica per i ventenni come quelli di 30 poi è chiaro c'è il giocatore che matura prima il giocatore che matura dopo il giocatore che ha più timori il giocatore che invece ha più diciamo cazzimma però francamente Pogba a mio modo di vedere non sarebbe mai troppo tardi quando la Juventus gli dà un calcio nel sedere e lo rimanda al mittente o perlomeno a casa perché non penso che il Manchester United lo riprenda visto che si è liberato a paramento zero Pogba veramente una grandissima delusione sotto tutti i punti di vista chiaro se stesse bene sarei qua a dire altre cose ma signori io devo valutare la realtà delle cose non i se e i ma perché lo sapete no? Del senno di poi sono piene le fosse ok? Io vi auguro buona giornata e ovviamente vi saluto con Good Morning Juventus